Che facciamo oggi Dia? Oggi facciamo i mostaccioli. Prendiamo 300 grammi di farina di castagne nella quale aggiungiamo 50 grammi di zucchero grezzo, diamo una mescolata. I mostaccioli sono un dolce tipico napoletano, però questi sono a modo mio, mi spiace. Adesso mettiamo la buccia grattugiata di un limone. Ora aggiungiamo 5 grammi di pisto. Questo è un mix di spezie. Sapete che potete trovarlo anche già pronto in bustine, però fatelo in casa. Se avete già le spezie disponibili mettete dentro cannella, noce moscata, a chiodi di garofano e avete questo mix spettacolare. Mamma mia che buono! Quindi lo aggiungiamo. Ora mettiamo 5 grammi di ammoniaca per dolci. questa la trovate nei supermercati, nelle bustine semplicemente. Ragazzi l'ammoniaca per dolci non va confusa con quella per le pulizie, mi raccomando. Sono due cose completamente diverse e in questo caso l'ammoniaca per dolci ci serve per rendere i biscotti più friabili semplicemente. Quindi ne scoliamo il tutto. Ora aggiungiamo 30 grammi di olio di semi, 50 grammi di acqua, due uova e ora mescoliamo bene il tutto. Beh dai, fino adesso è semplicissimo, tutti una giornata. Sì, potete farla tutti questa ricetta, te compreso. scherzo. Tu sei molto bravo in cucina, molto bravo. E ora impastiamo a mano. Bravissimo! Eh sì, perché a un certo punto il cucchiaio non ci serve più, quindi impastiamo a mano e poi spostiamo sul tavolo, così impastiamo bene il tutto e otteniamo un bel panetto omogeneo. Ora impastiamo il tutto. Se vedete che l'impasto è leggermente asciutto, aggiungete ancora due o tre cucchiai d'acqua. E continuate a impastare. Infine gli diamo un'ultima impastata con le mani bagnate. Guardate che bel impasto che sta venendo ragazzi. Sì, deve essere molto friabile, molto appiccicoso. Bene, una volta pronto il nostro panetto, prendiamo un foglio di carta da forno, spolveriamo con della farina, cerchiamo di schiacciare un po' il panetto e di creare un rettangolo. Poi spolveriamo ancora sopra con un po' di farina e appoggiamo un altro foglio sopra. E adesso dobbiamo stenderlo. Prendiamo il nostro matterello. Allora, il nostro pseudo rettangolo è pronto. Questo è lo spessore che dovete ottenere, circa mezzo centimetro. E adesso andiamo un po' a definirlo, ok? Quindi tagliamo un po' i bordi irregolari e poi dopo ovviamente reimpastiamo ciò che stiamo tagliando via. Non buttiamo nulla ragazzi! No! Adesso dobbiamo dividere il nostro impasto in strisce diagonali, ok? Quindi io come vedi mi sono già fatta dei segni prima di tagliare, così ho preso le misure uguali, ok? Dobbiamo dividerlo in fasce. Quindi andiamo subito con la prima. Questa anche la reimpasteremo, quindi nessun problema. Ma per esempio se abbiamo le formine... Si possono usare? Assolutamente! Se avete dei rombi come formine potete usare quelle. Io non ce l'ho e quindi faccio così e vengono benissimo ugualmente. E adesso facciamo le diagonali al contrario, così otteniamo dei rombi. Io mi sono già presa i segni, adesso ci ripasso sopra un attimo prima di tagliare e adesso taglio. E ci siamo! Adesso li mettiamo sulla teglia. Ma che belli ragazzi! Sì, oddio, non sono super perfetti, però almeno avranno quell'aspetto casalingo artigianale, diciamo. Vabbè, sono belli ragazzi. Sì, no, guarda, questo in realtà è abbastanza preciso, ok? Questo è il mostaccione. Questo è il rombo per eccellenza, no scherzo. Possiamo infornarli nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 10 o 12 minuti. Comunque ragazzi, mentre i biscotti cuociono, ve lo devo dire, mi dispiace ma lo devo dire, che da oggi ragazzi potete finalmente iscrivervi alla nostra sfida di 14 giorni! No, vi sembrava un po' triste. In realtà noi siamo felicissimi di aver dato vita a questo progetto che è un progetto che non abbiamo mai fatto io e Alessio, ma ci abbiamo lavorato durante tutti questi mesi ed è dedicato a tutti voi che seguite un'alimentazione senza glutine e senza latticini e anche ovviamente secondo la dieta del gruppo sanguigno. Ma che cos'è la sfida di 14 giorni? Noi vi lasciamo il link qui sotto nei commenti dove potete leggere tutti i dettagli. Vi dico solo che all'interno troverete video lezioni sulla cucina senza glutine e senza latticini, 30 ricette senza glutine e ovviamente senza latticini e anche senza uova. Quindi abbiamo voluto pensarci anche per voi che siete intolleranti alle uova o siete vegani o vegetariani quindi è perfetta anche per voi. Inoltre quest'anno ci sono dei bonus spaziali, tra cui un menù settimanale da lunedì alla domenica, l'ebook di ricette natalizie, cioè ragazzi proprio il top quest'anno. Ci abbiamo messo veramente noi stessi, ci siamo impegnati un sacco per questo progetto. Avrete soltanto 7 giorni per iscrivervi, quindi cliccate sul link sotto nei commenti e vi aspettiamo in tantissimi all'interno della sfida. Ora proseguiamo con la ricetta, quindi andiamo a sciogliere a bagnomaria 200 grammi di cioccolato fondente. Ci siamo quasi. Ora abbiamo sfornato i biscotti, li abbiamo fatti raffreddare e li ho messi su una gratella col piatto sotto. E adesso andiamo a, indovinate un po', ricoprirli con il cioccolato. Poi dopo distribuiamo il cioccolato bene con il cucchiaio, così. E ora dobbiamo semplicemente far indurire il cioccolato, quindi possiamo metterli in frigo e insomma per una mezz'oretta, fino a quando il cioccolato sarà completamente denso. E adesso, come sempre, arriva la parte più bella, l'assaggio. Come sono? Troppo buoni. I miei biscotti preferiti.